Alt, guarda il video fino alla fine e goditi questa super blonde experience. Durante la consulenza personalizzata questa cliente ci ha richiesto un biondo totale. Abbiamo deciso di realizzare per lei un full blonde. Questa tecnica di schiaritura ci consente di schiarire tutta la radice, lunghezza e punta per un vero e proprio effetto full, ma senza barrature né righe. Un vero e proprio effetto naturale, super luminoso. Dopo aver schiarito abbiamo tonalizzato con i nostri gloss naturali e poi ci siamo occupati dello styling. Finalmente è ritornato liscio e come potete notare i capelli hanno un effetto a specchio proprio grazie ai nostri nuovi gloss. Ed ecco il risultato finale, un full blonde senza righe, barrature, un biondo davvero unico, speciale, con effetto specchio. Una vera e propria blonde experience.